Stanco di non comprendere i termini scientifici che ascolti in tv e leggi nel web? Stanco di un lavoro in cui sono gli altri a dirti come fare una cosa? Il 23 maggio l'Università degli Studi Guglielmo Marconi organizza il Virtual Open Day in cui presenterò il corso di laurea in Ingegneria Informatica. L'Internet of Things, il Machine Learning e i Cloud Analytics non saranno per te più un mistero. Vi aspetto!